Musica Hola a todos, io sono Cronox, ben ritrovati nel mio canale Ragazzi, eccoci in una nuova classificata su Rainbow Questa volta sono con l'operatrice Valkyrie perché partiamo in difesa Vi avevate chiesto di portare Valkyrie e vi accontento Però rinforziamo prima le pareti e poi piazziamo le telecamere Allora, se vinciamo questa partita saliamo a oro 2, quindi mi deve impegnare Piazziamo una telecamera qui E piazziamo una Aspetta E piazziamo una Qui Un'altra dove la piazziamo La piazziamo in questo stanzino Precisamente qui Qualcuno sta sfondando ragazzi Chiudiamo qua Controlliamo con le telecamere un attimo Ragazzi che cavolo sta succedendo Oddio Allora, qua hanno sfondato Hanno fatto un casino di dio Qua non c'è nessuno E qua non c'è nessuno Uno sta usando il drone Ok La situazione è libera al momento Ecco che sta entrando E anche Thermite Ok Vorrei buttare il C4 Però sicuramente stanno mirando da questa parte Ok, sono entrati dentro Ok, potrei fare un'azione No, non la posso fare Ok, grandi ragazzi Grandissimi Volevo buttare il C4 E farli esplodere Ma non ce n'è stato bisogno Ok ragazzi Siamo in attacco Ho messo l'operatore Glaz Nemico rilevato all'esterno Mi si è cambiata arma Altrimenti potevo seccarlo Vabbè, ormai è entrato Comunque Li abbiamo trovati Oh, guarda lì Aspetta Nooo Dai, che tempismo Ho sparato appena si è abbassato Grande Thatcher Allora, io provo ad andare qua sopra Oh Grandissimi Ah, povero Ho esploso con la trappola Allora, credo che qualcuno stia nello stanzino lì, eh Mi raccomando, fate attenzione Ecco, come immaginavo Ma che sta succedendo? Sento degli strani versi Mai Allora, è meglio che scendo da qua Glaz, be careful Ok Ok Non vedo nessuno Nemmeno nello stanzino Mi serve che qualcuno controlli con il drone Ok, stanno dentro, mi stanno dicendo Ok Ok, quindi sta dentro Grandi Ci stavo andando io però Sono stati bravi e l'hanno ammazzato loro Rieccoci in difesa Sono di nuovo con Valkyrie E rinforziamo le pareti Anzi, prendiamo prima il ciubotto Perfetto E andiamo a rinforzare Levati un attimo Levati un attimo Ok Andiamo a rinforzare qui Perfetto E piazziamo Una bella telecamera Qui Anzi no, facciamo così La piazziamo in un altro punto Qui la piazziamo Sembra meglio Ok, perfetto Chiudiamo la porta Rinforziamo qui Piazziamo una telecamera qui Un'altra la piazziamo Accidenti Non posso piazzarla più Grande Doppia Allora Da qui non sta venendo nessuno Nemmeno da qui E' libero ragazzi Arrivano da qua Credo Forse hanno cambiato strategia Perché avevo sentito dei passi Ma Non stanno sfondando Da qui non arriva nessuno Nemmeno da qui Dov'è la botola In questa stanza? Ci dovrebbe essere una botola Eccola qua Secondo me arrivano dalla botola Fate attenzione Ecco Glads Attenzione Stanno venendo da sopra Tu E questi mo' sfondano la botola Quindi Controllate bene sopra Da dove? Bellissima kill di Heger Purtroppo me l'ha fregata Non ho sparato Altrimenti avrei ucciso lui Però è stata epica La kill di Heger Da dove? Da sopra Rimasto black E' morto L'avevo detto che venivano dalla botola Oddio Hanno ucciso uno della loro squadra Ragazzi siamo in attacco Assistito alla morte di un loro compagno di squadra Si stanno uccidendo a vicenda per sbaglio Li abbiamo trovati E ora dobbiamo solo ammazzarli Ok Allora Toucher appena sei pronto Ti sfondo il coso qua Pronto? Aspetto te Sto aspettando te Vai Io controllo da lì Grande No Sono stato individuato Per il momento non arriva nessuno Solo uno ne vedi Quindi l'altro in giro Grandissimo Io ti copro le spalle Ok Grandissimi Mai Abbiamo vinto Un team davvero eccellente Non mi posso proprio lamentare E' stato forse uno dei team migliori Che io abbia mai avuto E quindi un 4 a 0 Ultrameritato Perfetto Ho fatto solo due decisioni E zero morti Perché il mio team era davvero fortissimo E non mi dava il tempo Di uccidere In ogni modo Siamo saliti In oro 2 Finalmente Quindi Andiamo alla grande E dopo una partita Fantastica come questa Possiamo terminare Vi invito a lasciare Tantissimi like A commentare A iscrivervi se non siete ancora iscritti A condividere il video Con i vostri amici E a seguirmi Sui vari social network Che trovate in descrizione Che sono facebook Instagram E snapchat E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao